ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale stilograficamente il canale dove la mente si rivolge al bello oggi il bello prenderà le sembianze di questa visconti di cui devo ringraziare gli amici di bypayshop.it per avermela prestata ai fini della recensione faremo un breve unboxing di come la penna arriva alle vostre mani ne esamineremo le parti che la costituiscono farò una prova di scrittura scriverò una pagellina con gli aspetti che sono solito prendere in considerazione per valutare gli strumenti di scrittura le nostre amate stilografiche bene cominciamo subito una custodia cartonata esterna dal quale si sfila il cofanetto visconti cofanetto che in cartone rigido e qui abbiamo una soltra di di feltro che su cui potete adagiare tranquillamente la vostra penna rivela un doppio fondo la penna a me è arrivata in questo sacchetto di plastica avvolto ulteriormente in questa non so come definirla in questo materiale sempre plastico ma più morbido questa S di polistiro non so che serviva e sotto c'è il booklet di visconti con tutta la spiegazione e la garanzia quindi qui vi fa vedere in effetti non non l'avevo mai mostrato il my pen system quindi le vostre iniziali vostro segno zodiacale le pietre preziose che potete inserire via questa qui che potete inserire sulla vostra stilografica bene a questo punto non mi resta che metter via un po tutto quello che abbiamo mostrato di questa scatola e prendere la stilografica in questione perché oggi parliamo della visconti demon stones homo sapiens demon stones rossa quindi una stilografica che ricalca le linee della homo sapiens ma non è esattamente la solita homo sapiens e vedremo poi perché iniziamo con l'esaminare le parti che compongono questa penna primo carattere distintivo con la stilografica arriva incastonata una pietra corniola rossa clip visconti che ricalca il logo di ponte vecchio a firenze notate il decoro diciamo in rilievo la scritta visconti e diciamo il colore che intinge la parte di sfondo della scritta minuterie credo che questo sia argento la scritta homo sapiens sulla veretta della del fusto della penna non del cappuccio la penna è una demonstrator quindi come potete vedere adesso magari poco però con una buona livello di illuminazione riuscite a vedere attraverso tranquillamente il livello dell'inchiostro il fondello è qui una differenza sostanziale con gli altri esemplari di homo sapiens è qui che c'è il my pen system di solito lo trovate qui sulla sommità del cappuccio questa volta su questo tipo di serie dell'homo sapiens lo trovate sul fondello quindi è da qui che con un magnete potete staccare il logo visconti e attaccarci le vostre iniziali piuttosto che la pietra preziosa che vi mostravo prima o il vostro segno zodiacale innesto a baionetta per cui con una lieve rotazione riuscite tranquillamente a estrarre il cappuccio come potete vedere una mostrando una sezione a clessidra particolarmente comoda da impugnare un pennino in oro 14 carati in questo caso parliamo di un extra fine e il l'alimentatore è in plastica non ve la posso mostrare ma diciamo l'asticella del pistone non ve la posso mostrare perché la penna è inchiostrata è in titanio per cui particolarmente resistente a qualsivoglia inchiostro a base a base liquida con cui siamo soliti inchiostrare le nostre amate stilografiche bene a questo punto non mi resta che sottoporre lo strumento di scrittura beh prima di tutto facciamo una breve pausa vado a prendervi una homo sapiens classica e vediamo anche le differenze che ci sono allora questa è la visconti homo sapiens bronze age un classico forse la prima credo sia la prima homo sapiens che è stata ideata da visconti come potete notare c'è una sostanziale differenza in termini di clip vale a dire che la clip della visconti homo sapiens demon stones è un attimino più grande e a me sia per il decoro che per la grandezza ricordava qualcosina e infatti una clip simile l'abbiamo vista nella visconti opera master polinesia perché raggiunge le stesse identiche dimensioni sia in termini di spessore che di ampiezza e anche di decoro vedete come sono complementari tra loro stessa tecnica stessa grandezza per cui visconti si è fatta un po più forba ha deciso di non differenziare diciamo le clip e adottare lo stesso modello di clip semplifica un po la loro vita secondo me in termini anche di magazzino per cui impiego dei materiali identico su più su più stilografiche e la clip è un po più grande secondo me è un bel tocco altra differenza ve la dicevo prima mentre la pietra preziosa sulla sommità della homo sapiens classica è opzionale e fa parte del my pen system qui la sulla serie demo stones incentrata appunto sulle pietre chiaramente ogni esemplare alla sua alla sua pietra corrispondente e il my pen system si sposta sul fondello la penna praticamente ha dimensioni sostanzialmente identiche quello che differisce è la pietra sulla sommità quindi fine delle differenze chiaramente questa è una demonstrator questa no non c'è modo di spezionare il livello di inchiostro nell'esemplare bronze age classico mentre invece sulla demonstrator è tutta trasparente per cui pro e contro dovete pulirla bene per non vedere residui ma avete facilità di valutazione del livello di inchiostro altra differenza questa questa qui è una double reservoir questa no questo significa che voi potete continuare a scrivere con il fondello inserito avvitato mentre qui dovete qui c'è una doppia camera è una doppia riserva per cui sostanzialmente non riesco a farvela vedere perché ci vuole un po più luce ma qui vedete questo questo piccolo cilindretto scuro e perché qui dentro è rimasto intrappolato dell'inchiostro quando l'ho chiusa a esaurimento di l'inchiostro che sta qui l'inchiostro che sta sull'alimentatore e l'inchiostro che sta su questa camera dovete necessariamente aprire il fondello questo vi permette però di sigillare la la seconda camera per cui se fate un viaggio in aereo questa è un po più sicura della mia ok altra differenza qui abbiamo un pennino in oro 14 carati qui abbiamo un pennino in palladio 23 carati nella vecchia serie poi attualmente viene prodotto con lo stesso pennino che vedete qui quindi e se non erro non è a doppio colore ma colore unico color champagne se non mi ricordo male comunque innesto baionette in entrambe quindi non ci sono altre differenze bene andiamo finalmente a sottoporla a una prova di scrittura un pelino di keeping ma era un po che era senza cappuccio anzi svitiamola caso mai che vado a esaurire la seconda camera visconti homo sapiens demo stones red pennino extra fine in oro 14 carati vediamo la continuità di flusso allora ho avuto due skipping qui e qui secondo me erano dovuti anche l'inclinazione infatti in questo caso ho avuto un breve skipping qua e basta tutto il resto è abbastanza continuativo tenete presente che è un extra fine per cui la copiosità di flusso è davvero ridotta è un pennino piuttosto secco devo dire per cui il mio suggerimento se volete pennini bagnati è di applicare la piccola soluzione che vi ho mostrato nel video della polinesia della opera master polinesia lì vi ho mostrato come rendere un pennino più bagnato se non l'avete visto andato velo a vedere comunque per quanto riguarda la variazione di tratto è possibile ottenerla con una lieve pressione e tra l'altro vi godete il passaggio dal tratto extra fine fino al tratto direi mb ok quindi è abbastanza non è un pennino flessibile e non è un pennino semi flessibile però con la giusta impugnatura la giusta inclinazione rispetto al foglio di carta riuscite a dare tratto direzione di tratto e quindi carattere alla vostra scrittura bene passiamo la pagelina come sempre scrivo tutto commentiamo alla fine ok allora il flusso per me è un 6 e mezzo nel senso per me è un po troppo secco comunque un pennino extra fine quindi non rilascia molto inchiostro l'ideale per la scrittura di ogni giorno nel senso che comunque dovete calcare un pochettino perché o usare una tinta d'inchiostro che non sia il waterman serenity blue ma qualcosa di più intenso cioè qualcosa di veramente nero scuro perché o blu nero o nero perché altrimenti è un po sbiadito c'è a chi piace questo stile di scrittura questa è la mia opinione personale per me è un 6 e mezzo nel senso che va un po alterato il flusso secondo me è un attimino più copioso anche un extra fine può scrivere in maniera più abbondante vi ho mostrato come si fa non è un ostacolo insormontabile potete tranquillamente fare questo con un poco di pratica su penne di basso costo prima di passare a questa che è più impegnativa come diremo più avanti l'impugnabilità per me è un 8 su 10 non do il massimo perché il cappuccio no in realtà il cappuccio calza per cui errore da parte mia credevo non calzasse e invece il cappuccio calza in maniera piuttosto sicura quindi non c'è motivo di non darle il massimo del voto 10 su 10 perché comunque la sezione a clessidra è carina si impugna piuttosto bene l'innesto a baionetta non ha delle indentature che siano taglienti per cui va benissimo si impugna a varie altezze tranquillamente anche con il cappuccio calzato in termini di bilanciamento vediamo subito il bilanciamento è un pelino spostato all'indietro rispetto al gruppo di scrittura non lo misuro col cappuccio perché logicamente va a estremizzarsi per cui per me non oltrepassa il centro per cui andiamo sul 7 su 10 preferisco un bilanciamento più vicino al gruppo di scrittura anche se in realtà devo dire la verità il peso non è particolarmente impegnativo credo che non si avverta uno sbilanciamento della penna io non la uso con cappuccio calzato perché per me che sono mani che ho mani medio grandi senza cappuccio calzato va benissimo per cui io non avverto non riesco a dare meno di 7 sinceramente sebbene sia oltre il fulcro sia oltre il centro della della penna in se per sé materiali 7 e mezzo non posso dare di più perché sebbene ci sia un pennino in oro e delle rifiniture metalliche dicevo prima che erano in argento in realtà credo che sia palladio placato in argento insomma mi informerò un pochino meglio eventualmente ve lo scriverò in sovraimpressione comunque qui parliamo di resina plastica per cui non un materiale particolarmente eccelso anche se la resina è di un certo spessore a contro cappuccio come sto vedendo per cui è un esemplare piuttosto curato devo dire la verità a me piacciono molto le demonstrator se piacciono anche a voi chiaramente il voto sale in linea di massima non beh ecco magari considerato che l'asta interna è in titanio per cui fatta per durare forse forse ha senso dare qualcosina di più comunque l'alimentatore in plastica resina plastica sono indeciso tra il 7 e mezzo e l'otto devo dire la verità perché comunque le rifiniture sono buone la lavorazione è buona soprattutto non dovete ammattire per la riempitura di colore della scritta visconti adesso la fanno veramente veramente bene complimenti feedback 10 su 10 perché sebbene sia un extra fine devo dire che non gratta assolutamente per nulla il pennino è abbastanza ben tarato l'unica cosa come dicevo prima il flusso è un po' scarso prediligo solitamente flussi più abbondanti ma il feedback è davvero ottimale considerato che è un extra fine manutenibilità non riesco a dare più di 8 su 10 perché essendo una penna power filler quindi a siringa rovesciata forse prima non l'ho detto comunque caratteristica di tutta la serie Homo Sapiens è un attimino più impegnativa da pulire nulla di trascendentale se voi avete la possibilità di accedere alla chiavetta visconti potete aprire e svitare il gruppo di scrittura oppure magari se riuscite con pinzando diciamo con le vostre dita la bracciate dietro e pinzando col pollice stortate un po' la penna fino a svitarla in questo senso e a quel punto viene via l'intero barilotto con alimentatore e pennino e potete accedere all'interno della penna più facilmente potete pulirla e asciugarla più facilmente in linea di massima comunque anche senza fare questa operazione caricando e scaricando acqua e lasciando la penna con la punta rivolta verso il basso su un foglio di carta assorbente da cucina in un bicchiere riuscite tranquillamente ad asciugarla senza alcun residuo per cui comunque è un'operazione un po' più lunga un po' più complicata del solito 8 su 10 di meno non posso darle neanche di più allora il rapporto qualità prezzo signori miei la lavorazione è decisamente buona l'incastonatura della corniola è perfetta così come la levigatura della pietra la lucentezza delle parti metalliche è indiscutibile il my pen system non l'hanno tralasciato e sul fondo io non riesco a dare poco a un esemplare di questo genere per lo più oltretutto adesso rispetto a prima la clip è anche più proporzionata e non riesco a dare meno di 8 su 10 perché 8? perché è una penna decisamente impegnativa parliamo se non ricordo male di sopra le 530 euro forse anche 100 euro in più quindi comunque un esemplare non alla portata di molti la Homo Sapiens dopo tutto è il cavallo di battaglia di Casa Visconti per cui parliamo necessariamente di penne più impegnative del solito vale la pena? non vale la pena? questo sarete voi a giudicarlo la mia raccomandazione è provatela se possibile soprattutto come impugnatura vi deve piacere come siede sulla vostra mano almeno che non siate dei collezionisti allora chiaramente dovrete necessariamente se siete malauguratamente per voi collezionisti della serie Homo Sapiens allora dovrete collezionarle tutte campacavallo non è esattamente la collezione di Lami Safari è sicuramente più impegnativa però secondo me regala delle grandi soddisfazioni all'occhio perché è una serie ben proporzionata scrivono piuttosto bene ed è anche abbastanza robustella per cui un esemplare è sicuramente degno di entrare nelle mani nella collezione e nelle mani di un appassionato di stilo grafico quindi ringrazio tutti voi per aver seguito il video fin qui se vi è piaciuto cliccate sul like se vi piacciono video di questo tipo vi invito a iscrivervi al canale anche come forma di sostegno per aiutarmi ad arrivare sempre a un maggior numero di persone perché l'algoritmo di YouTube giudica molto quanti like quante visualizzazioni quante commenti quanti iscrizioni ricevo ad ogni video ringrazio soprattutto gli amici di bypasshop.it per un ennesimo atto di fiducia di avermi lasciato una Homo Sapiens io che sono particolarmente fragile su questo ramo e quindi per avermi prestato per il nostro diletto questa bellissima nuova uscita di Homo Sapiens e vi do appuntamento al prossimo video stilograficamente parlando ciao a tutti ah fatemi sapere cosa ne pensate sia della serie Homo Sapiens sia di questo esemplare se avete avuto modo di maneggiarlo se vi piace la parte demonstrator piuttosto che se preferite una demonstrator piuttosto che una penna opaca fatemi sapere cosa ne pensate grazie a tutti voi e al prossimo video come dicevo prima stilograficamente parlando ciao a tutti